Ciao, sono Cristina Nicolodi, sono laureata in Ingegneria Elettronica. Al termine degli studi ho avuto una breve collaborazione con il Dipartimento di Fisica del King's College London. Ho iniziato con un'esperienza lavorativa nella consulenza, poi sono arrivata a lavorare in Deutsche Bank, attratta proprio dall'ambiente internazionale, dinamico e da sempre attento ai temi di diversity e di inclusività. All'interno dell'organizzazione ho avuto la possibilità di muovermi attraverso diverse funzioni, dal Finance all'Information Technology alla Governance di Operation. Come Project Manager ho potuto gestire numerosi progetti, sia locali sia globali, per quest'ultimi collaborando con team virtuali, multiculturali che sicuramente mi hanno arricchita. Alle giovani laureate il mio consiglio, che è anche il mio miglior augurio, è quello di mantenere sempre viva la curiosità e il desiderio di conoscere. Conservate quello spirito di ricerca che caratterizza i percorsi di formazione scientifica, perché è proprio questo spirito alla base dell'innovazione in tutti i campi e del progresso sostenibile. Utilizzate poi questa stessa curiosità e questo interesse anche per coltivare le relazioni personali e il networking, portando sempre con voi la vostra unicità, il vostro carattere distintivo e la vostra etica professionale. Mediando un'espressione da una passione, la fotografia, auguro a tutte voi buona luce. In bocca al lupo!